con voi mi chiamo ringa fortunella vorrei invitarvi ad un evento nuovo molto interessante a dir poco intriganti il 14 15 maggio a weekend che dedicheremo al nostro contatto col mondo vegetale orienteremo ed allineeremo alberi in tutto il mondo per guarire rafforzare la relazione tra alberi umani con un particolare pendolino selfico costruito appositamente per questa funzione creeremo una nuova alleanza tra noi gli esseri umani e gli alberi questa operazione di orientamento aumenterà la vitalità e la salute delle piante connettendo le stesse anche reciprocamente le une alle altre all'interno del mondo vegetale su www.globaltreelovers.org slash events puoi trovare le informazioni iscriverti per partecipare e se interessato trovare a questo proposito i luoghi più adatti nelle tue vicinanze buon risveglio grazie a tutti 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 Grazie a tutti.